Salve, guardami negli occhi, perché lo sguardo è una straordinaria via di comunicazione per tutti. Lo sguardo soddisfa i nostri bisogni affettivi. Lo sguardo comunica amore. Lo sanno molto bene gli innamorati che spesso sembrano mangiarsi con gli occhi. Guardare uno è come dirgli tu esisti per me. Tu sei entrato nei miei pensieri, nei miei affetti. Lo sguardo dà valore all'altro. Essere guardato significa essere apprezzato, essere considerato. Non essere guardato, invece, significa essere figlio di nessuno. Lo sguardo comunica attenzione o tristezza. Rimprovero o approvazione. Lo sguardo. Oggi purtroppo lo stiamo smarrendo. È un vero peccato. Priviamo così i nostri amici di uno dei più doni preziosi. Gli occhi parlano più della bocca. Guardiamoci sempre con simpatia allora. Ciao.